Ciao a tutti, grazie per avermi invitato a questo evento Arcobaleneo Mi Diritti, mi dispiace profondamente non poter essere fisicamente qui con voi e mi dispiace soprattutto perché avrei voluto approfittare di questa interessantissima occasione per poter ringraziare quelle persone che ogni giorno, ormai da un anno, lavorano a fianco a noi giorno dopo giorno e sto parlando degli attivisti di tutta Italia, da Palermo, Napoli, Roma, Torino, che ci hanno permesso di portare in Parlamento delle battaglie fondamentali, delle battaglie importantissime e quindi approfitto di questo video per darvi anche una bella notizia, sono stata invitata all'ambasciatore statunitense a partecipare a un forum internazionale che affronta i problemi dell'inclusione sociale, della diversità e mi ha detto di avermi selezionato in quanto rappresentante del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle agli occhi degli stranieri è riuscito a distinguersi grazie alla battaglia che abbiamo portato avanti alla Camera per la proposta di legge contro l'omofobia e quindi vorrei ringraziare chi ha permesso tutto questo, ovvero gli attivisti dell'osservatorio LGBT e il merito di questi attestati di stima internazionali va assolutamente a loro, noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere in quanto portavoce, quindi direi che un grosso applauso va sicuramente a queste fantastiche persone. Ma ora voglio entrare un attimo nel merito appunto di questa battaglia che ci ha visto protagonisti a quanto pare della legge contro l'omofobia, una proposta di legge che era nata, devo dire, ha avuto un inizio abbastanza, devo dire, idilliaco, una proposta di legge presentata da un partito di maggioranza, quindi aveva tutte le chance per poter essere approvata nella sua versione originaria senza problemi, era stata approvata da noi, era stata approvata da SEL, da Scelta Civica. Dopodiché, appena cominciata la discussione in Commissione Giustizia, purtroppo abbiamo assistito all'inizio del massacro di questa proposta di legge. Il massacro si è concluso con il colpo di grazia finale, purtroppo, che hanno dato una volta passati alla discussione in aula. Noi abbiamo tentato anche in quell'occasione di dare tutto il nostro sostegno al Partito Democratico per poter arginare i danni che ormai avevano fatto in Commissione Giustizia, però purtroppo abbiamo visto sotto i nostri occhi trasformare una legge che era nata appunto per contrastare l'omofobia, l'omotransfobia in una legge invece che addirittura la favorisce. Non solo la favorisce, ma protegge tutta una serie di persone, persone particolari, guarda caso politici, istituti religiosi, organizzazioni e associazioni dal propagandare i loro contenuti omofobi senza che questo possa costituire il reato. Per quanto mi riguarda la mia esperienza personale, questa proposta di legge mi ha dato modo di dialogare, come ci sentiamo dire spesso da chi magari conosce poco il Movimento 5 Stelle con gli esponenti, in questo caso del Partito Democratico. Devo dire che dopo quello che ho visto in aula, per quanto mi riguarda, ma devo dire per quanto ci riguarda come gruppo parlamentare il Movimento 5 Stelle, si è arrivati al punto di non ritorno, perché io sono stata letteralmente raggirata, presa in giro dai deputati, in questo caso Scalfarotto, ma anche altri con cui mi sono confrontata sempre del Partito Democratico, che guardandomi dritta negli occhi mi hanno detto una bugia, perché mi hanno raccontato che il loro intento era quello di riuscire ad approvare la legge raccogliendo l'unanimità del Parlamento, in realtà era una bugia per nascondere il fatto che purtroppo il Partito che in questo momento sta guidando questo Paese è fortemente spaccato al suo interno quando si tratta di diritti civili. E quando io li ho accusati di questo pubblicamente in aula, sapete benissimo che non ho problemi a dire assolutamente quello che penso, mi hanno deriso, mi hanno offeso, però poi nei fatti hanno dimostrato che avevo ragione. Quella che era una mia battuta, abbiamo pregato il PD di portare avanti le proposte di legge del PD, purtroppo è diventata una realtà che vediamo ogni giorno, basti pensare la guerra intestina che si sono fatti fra di loro in aula l'ultima settimana, per esempio l'ultima occasione ne hanno avuto per litigare sulla parità di genere da inserire nella legge elettorale. Purtroppo la situazione è andata sempre peggio, in Senato i nostri colleghi senatori ci raccontano che la proposta di legge è ferma, non so ormai da quanti mesi, sono stati presentati 400 emendamenti ostruzionistici, emendamenti veramente offensivi, pensiamo a quello di Giovanardi che propone di definire la pedofilia, anche la pedofilia come orientamento sessuale e quindi oggi viviamo in un paese in cui dei rappresentanti del popolo italiano si permettono di poter dire e fare cose del genere. E io vi vorrei fare riflettere appunto su questo paradosso, oggi per esempio la collega Roccella e Pagano del Nuovo Centrodestra hanno anche fatto una conferenza stampa per accusare l'UNAR, l'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, per avere distribuito degli opuscoli ai docenti delle scuole italiane appunto per formarli all'educazione della diversità e rispetto appunto delle diversità e hanno detto, io cito testualmente, hanno prodotto dei testi miranti a dare un orientamento sessuale agli studenti nelle scuole, niente di più falso, però purtroppo non abbiamo una legge che possa tutelare i cittadini da anche affermazioni strumentali come questa e però pretendiamo che questi stessi politici approvino una legge che poi gli impedirà di dire queste cose. Quindi purtroppo viviamo in questa specie di paradosso, come quando pensiamo che i senatori dovranno un giorno votare per l'abolizione di se stessi, cioè il Senato dovrà votare per abolire se stesso. Quindi purtroppo questa è la situazione dei fatti, io non voglio chiudere il mio intervento in chiave negativa, voglio dare anzi motivo di speranza perché adesso ci siamo noi, adesso c'è il Movimento 5 Stelle che ha dimostrato di voler essere portavoce delle esigenze, dei bisogni e dei diritti di tutte quelle persone che sono state sempre trascurate o peggio, prese in giro come in questo caso è successo anche a me in veste di parlamentare. Ci sono state già dei buoni esempi, sappiamo perfettamente che l'omofobia non si potrà certo combattere semplicemente con l'approvazione di una legge, anche se ovviamente sarebbe auspicabile perché sono 20 anni che l'aspettiamo e sicuramente ne parleranno nel corso della giornata le mie colleghe della Commissione Cultura perché una cosa molto importante che noi riteniamo fondamentale è appunto cominciare dalle scuole a insegnare l'educazione affettiva, l'educazione sentimentale al fine di combattere qualsiasi tipo di discriminazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi dispiace veramente tanto non poter essere lì con voi, vi ringrazio soprattutto per avermi dato la possibilità di sentirmi veramente una portavoce così come il Movimento 5 Stelle si è sempre ripromesso. Buona continuazione e a presto!